Ragazzi, basta, ce la giochiamo a un modino, un attimo, così, e sbam, poi. Eh sì, ma basta con l'arco, se li frecci a catena, quelli muoiono. Eeeh, ciao a tutti i tuoi social, andiamo a beviti in questo amico video in convegna di AccoTroll! Ah, ui! Di Metano! Ciao, ui! Di Tec! Ciao, ui! E di Martina! Ciao, ui! Eh, vabbè. Ma ogni volta cambia. Martina è qui a fianco a me, ovviamente non è in gioco, perché mi serviva una mano in latino ed è venuta a casa mia. Comunque... Sembra che ti abbia detto Giovanni al posto di Charlie, te la giura. Ho detto Giovanni. Ciao, ragazzi, sono Giovanni. Ok, oggi siamo qui nelle Bed Wars dell'Illuminati Craft SRL, faremo un 4 conto 4. Un 4... Le vedi che non c'è... Sembra è... Oh, guarda che è ricoglionita forte, ragazzi. Un 4 conto 4. È un problema di edizione, fatevi fare un po' di... Già, 4 conto 4. Ah, comunque in descrizione vi lascio i canali di questi tre lezzini, più la lezzina principale qui a fianco a me e Martina. Lasciate un mi piace perché a 1500 mi piace e porterò una nuova Bed Wars. Eeeh... Immagiarli quante richieste, però sembra un riscatto. Cioè, gli spessibili docchi e la famiglia e i Maroc. Ok, 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 let's go, let's go, citazione. Oh, finalmente avete messo il villager da qualche parte. Esatto, questo era il villager quello che... Cosa fai lì? Sembra il bagno, sembra. Riega, ti stai facendo il punto e qualcuno può venire subito da me o no? Eeeh, aspetta, devo... Arrivo con 6, 6, 6, 6 cosi. Arrivo con 14. Magari niente. Io voglio andare sopra a prendere... Ma tu devi stare zitta, ok, scusa il tuo video. Vai pure! Vai veloce. Devo andare a prendere le... Loro, vai a prendere loro. Vabbè, comunque, per chi non conoscesse la modalità, se non avete visto i video precedenti, semplicemente, andate a vedere il video precedente, sì, esattamente. No, sul serio, per chi non conoscesse la modalità, noi dobbiamo semplicemente distruggere il letto dell'altra squadra che si trova nella loro base e per farlo possiamo usare questi materiali per comprare cose dal villager e poi andargli ad arrare il sederino. È molto semplice come modalità. Lui è andato già a prendere i diamanti, qualcuno vado ad aiutare Metano. Sì, vabbè. Ma io ho fatto le scale, quindi... Non è vero. Stanno arrivando da sopra? Ah, sono arrivando su, eh? Tanto non possono. Ma sono così violenti, già? Vabbè, tranquilli, ragazzi, intanto adesso mi faccio l'arco e sono morti. Tac, il letto, l'ho messo a posto, tec, tec, tac. Aspetta, aspetta, aspetta. Ma in Metano c'è il distruttivo, è tanto l'arco, ci sono il letto, ma li facevo fuori fino alla partita. Ma hai già distrutto il letto, Metano. Ma con quali cattiveria. Erano tutti i tiri al centro. Ma mi manca uno di oro. Ottimo, ottima, tattica. Scusatemi. Ma con quali cattiveria, Metano. Esatto. Sì, ma... Oh, cioè, Charlie, fidati, vai da loro e uccidi le mani nude. Esatto, io sto andando. Sì, vabbè. Non ci credo. Stanno aspettando, praticamente. Abbiamo finito la partita, praticamente. Vai, vai, Charlie. Ma c'è uno sopra, eh? Saranno lì a dirsi, eh, ma allora... Avete spaccato il letto? Allora... Ma no, ma l'hai già finita la partita, ma non vale. Non mi sono divertita. Charlie, vieni con noi, andiamoci a divertire. No, aspetta, aspetta, io voglio ucciderlo con l'arco, voglio ucciderlo con l'arco. Io ho andato a balla bello bello, pensando di ucciderli, invece... No, mi ha colpito. Non ho colpito, non ho colpito io, non posso colpire quelli da mia squadra. No, non puoi colpirli noi. Appunto, no, perché Martina ha fatto nooo, come se ti avessi colpito io. Ma in poche parole, sì, dai... Panno l'arco. Sì, uno all'arco. Però non possono più andare sopra, perché andare sopra a prendere l'oro vorrebbe dir rischiare la vita. Quindi non possono andare sopra. Ok, io ne ho preso uno. Oh, anche a me, anche a me, fa malissimo. Soffia, 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 che non brucia più, soffia. Charlie, raccia con noi. E io sto, io sto, io sto qui a uccidere con... Charlie, muuuu. Allora, prendetemi... Charlie. Facciamo così, portatemi un attimo... Portatemi un attimo... No, dei blocchi, non posso muovermi da qua, perché sennò vengono loro da noi. Sono entrato anch'io, sono entrato anch'io. Ok, 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 vai, 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 vai. Io lo posso rispettare arrivato. Aspettate, arrivo. Hanno un cuore, hanno, eh. Eh, arrivato, ma... Eh, no, raga, io l'ho picchietta a mani nude, non c'avevo nulla. No. Eh, vabbè, l'ho levato un po' di vita, comunque, eh. Oh! Come hanno fatto? Aspettate, io mi faccio... Io mi faccio, allora, mi faccio un bel piccone. Lei si fa, ragazzi, si bucca, lei, ragazzi. Se... Però il fatto è che quello sopra, mi sa che è quello con l'arco. Esatto. Eh, eh, eh. Esatto. Sembra che stai cagando. Guarda, la seconda qua, sembra che sta cagando. Guarda, salmina la cacca. Dai, ancora due giorni, prendo altri due lingotti, tranquillo. Ma io faccio un bel letto, non le posso amare. Tanto, io voglio farmi crescere la barba tipo Gandalf, ce la facciamo. Oh, eh sì. Io ci vado, io ci provo. Grazie a te. Cosa? Ci prova, ci prova con tutte, giuro. Eh sì. Quanti diamanti avete, giusto per curiosità? Uno. Ragazzi, ancora uno d'oro e finalmente c'ho l'altro. Aspetta, eh. Vabbè, ma tanto adesso io mi prendo un sacco di diamante. Dopo aver preso un sacco di diamante mi faccio l'armatura del Gesù e quindi ciao. Allora, a 10 di diamanti ti puoi fare la spada. Per farti l'armatura devi fermare un bordello. Quanto? Almeno due giorni. Io ho già 5 diamanti. Quanti ne hai? Cinque. Eh, devi aspettare ancora un bel po', mi sa. No! Eh, una freccia. Coprime un attimo. Oh, le. Coprime. Oh, la. Le vi osa. Allora, due d'oro. Mancano altri due arrivo anche con l'arco debole, ma arrivo con l'arco. Io li faccio perdere tempo, era sopra comunque. Ok? Uno sta mirando di... Io ta smai tra la la. Ma che cazzo sta dicendo? Quello sopra sta mirando di me. Ma din din don. Posso di essere sexy? Mi fa po' tre. Io ta smai. Sì, ma mi stai bloccando il braccio per ridere. Dai, dai, dai che sta mirando a me che sono sopra. Dai, dai, dai che sta mirando. Lo sto prendendo. Lo sto prendendo. Attento, tex è quello sotto. Tex è quello sopra. Ragazzi, mi sta mirando a me. Sì, sì, sì. Sono in due per ora sopra. Porco, ho perso tutto. A me è venuto un'idea, ma non so se riesco. Io faccio un puntissimo sopra. Esatto. Quello che voglio fare io. potremmo andare due sul ponte e uno che si che si barda per bene va di cattiveria da sotto io e Iaco andiamo da sopra che sfonda sotto insomma dai non è fattibile mi prendo in giro sto villager shift più sinistro uno stack ma riescono a colpirmi fino a qua ragazzi è una cosa assurda ok e stiamo qua da qua sopra li prendo ogni tanto cosa non è facile vai 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 non li vedo se stai tu ok è stato acceso di cattiveria si l'ho visto pensa un po' comunque non mi fa mettere i blocchi dove li avete messi voi lo sapete quel pacman blu non respira più si è praticamente un apparecchio è la maschera di anima finalmente otto otto gold posso andare a fare l'arco forse forse maledetti allora io sono molto vicino adesso infatti li ho presi ma dio di quel buono sono tutti e tre lì con l'arco tre con l'arco sono no ragazzi c'è la cassa io piazzo dentro quello che mi rimane ragazzi tranquilli fatemi attuare i blocchi dove sono finiti e sono tutti dentro la cassa perché erano qua in mezzo che spuotano che è difficile perché vai 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 cazzo io ho quasi finito il ponte mi sono avvicinato tantissimo al ponte ponte per tiberiade io posso posso prendervi un po' di friccia ma che cazzo hanno fatto questi qua che torrano fatto non ci credo dai ma non si può ma li finiranno sti archi prima o poi e no sono infiniti sì sì ho ucciso? no ma l'ho colpito e l'ho fatto cadere facendogli perdere un sacco di l'unico problema è jacuzzi stava mirando la mezz'ora e l'unico problema è lui vai sali cazzo sali occhio che uno sta scendendo eh vabbè però ho preso ah cazzo dove era? eh sopra ti avevo detto che era sopra sì 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 tu mi hai rotto le scatole ti prendo tanto se ti metti là vi prendo vi prendo da qualsiasi parte qui eh sì sì prendo una cotolette così figa cotolette sì ma tu devi cadere ah io ho preso 8 di oro ragazzi 8 di oro no no basta quindi puoi passare uno eh c'è uno dentro al coso ho preso no 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 che qua là in alto che lo voglio preso no che cosa ah ora è morto ragazzi uno di loro sì oh alleluia ma è morto come? buh? non lo so ma finalmente cazzo allora Charlie ha ucciso ah l'ha ucciso Charlie oh davvero figo sì non lo sapevo perfetto Charlie non lo sapevo io ero qui che freggiavo va bene rimangono due quindi ragazzi guarda il quattro con l'arco ragazzi eh esatto adesso voglio vedere eh uscirà prima o poi no? sì sì ragazzi basta giocare ce lo giochiamo a modino un attimo così e sbam poi eh sì ma basta con l'arco cioè con l'arco se li frecci a catena quelli muoiono preso anch'io preso morto oh grazie grazie oh adesso bombardiamo quello là aspettate che mi avvicino oh preso l'ho ucciso sì davvero e vai finalmente sì 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 e vai uno Charlie vai grande uno al testa ne abbiamo fatto fuori gli sono arrivato a 15 diamanti così posso prendere l'arco sì no ok ragazzi questa partita infinita finalmente è terminata spero che vi sia piaciuta nonostante lo sclero assurdo quei quattro non volevano proprio morire in nessun modo cioè non volevano andare incontro alla loro morte certa io spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un tipo di piace tutti i commenti noi ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao 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 ciao